Quando avevo 7 anni stavo in un istituto, c'erano tante ragazze belle che conoscevo già all'asilo, tutti quanti ci provavano con me ma io ignaro che mi emassero mi comportavo come uno stronzo. In questo istituto c'era una ragazza che mi aveva colpito particolarmente e siccome abitavamo vicino gli chiesi di uscire nel parchetto, il problema era che con lei c'erano le sue amiche che io rifiutai. Pensando a quegli anni che non esisteva il fidanzamento ma direttamente il matrimonio, chiesi a questa ragazza camminando per mano se si voleva sposare con me. Lei rispose con un no arrabbiato e mi guardarono male le sue amiche che ci provavano con me.